buongiorno a tutti benvenuti in questo panel oggi parleremo di creator nel mondo del food e del travel e dell'impatto dei contenuti in particolare dei contenuti a tema food che hanno sulle decisioni di viaggio eh lo faremo con i nostri ospiti che abbiamo vedete qui sul palco con me eh Giovanni Molinari e Manuela Vitulli che sono due protagonisti del mondo dei creator due persone che lavorano tutti i giorni nella creazione di contenuti per raccontare destinazioni hotel ristoranti esperienze e due figure invece che lavorano anche nel mondo dei contenuti ma più dal punto di vista strategico come me e come Ezio quindi vedremo un po' eh tutte le le visioni sia dal punto di vista strategico che dal punto di vista di chi lavora ogni giorno eh come creator appunto chi si occupa di marketing come me eh eh avrà notato che eh negli ultimi tempi nei brief dei clienti si legge sempre di più la parola creator e meno quella influencer essenzialmente queste due figure hanno molti aspetti in comune ma c'è un fattore importante di differenza ovvero il creator non ha per forza di cose un seguito enorme in molti casi eh possono concilere queste cose ma non è un fattore obbligatorio spesso il creator non riesce ad influenzare o a raggiungere numeri importanti ma è una figura che è specializzata e brava a creare un contenuto creare un contenuto magari per delle competenze per delle conoscenze particolari o semplicemente perché condivide una passione un hobby il contenuto è sempre stato alla base di internet e dei social media non lo scopriamo certo oggi eh questo è sempre stato diciamo un uno strumento di ispirazione di eh condivisione di informazione ma anche soprattutto di dialogo e relazione semplicemente questa rilevanza che ha acquisito nel corso del tempo ha dato un peso importante un fattore chiave oggi a chi questi contenuti li crea siamo di fronte ad una vera e propria economia delle passioni qualcuno la definisce o economia dei creator ce ne sono cinquanta milioni al mondo per un giro d'affari che cresce in maniera esponenziale eh la maggior parte di questi creator sono degli hobbysti ovvero persone che non lo fanno per professione ma magari ambiscono a diventare dei full time come vedete in questa piramide ovvero delle persone che ci lavorano tutti i giorni e in in pratica il successo delle principali piattaforme si basa proprio su questo sulle persone che tutti i giorni lo fanno per passione e condividono i loro contenuti e in alcuni casi sono anche in grado di diventare delle celebrities o addirittura creare delle media company soprattutto nel nel food e nel travel nel travel in particolare questi contenuti che ogni giorno vengono prodotti e condivisi impattano in maniera importante addirittura questo è uno studio di Google che è venuto fuori da un congresso di qualche mese fa dove eh loro stessi hanno condiviso un' indagine fatta sulla generazione Z e hanno mostrato come i più giovani utilizzano Instagram e TikTok al posto delle mappe e del motore di ricerca quindi questi questi ambienti oggi diventano fonte di ispirazione e spesso sono i creator stessi a diventare a entrare in connessione con loro e diventare fonte di informazione di ispirazione per la creazione dei del proprio viaggio perfetto che di solito prevede un eh itinerario con tutta una lista di cose di esperienze da voler fare perché si è spesso ispirati anche da quel contenuto che hanno visto condiviso su sulle piattaforme social vi condivido questi dati molto interessanti che vanno proprio sul tema di questo panel eh questa è una ricerca di extreme realizzata su duecentomila post eh pubblicati su Instagram questa estate e ho estratto appunto questi dati che fanno vedere quali sono i contenuti che hanno maggior coinvolgimento online durante le vacanze insomma delle delle persone in Italia e come vedete i contenuti a tema food sono quelli che ottengono sempre un maggior coinvolgimento quindi dal classico aperitivo fino al bicchiere di vino al cibo la pizza immancabile e e via dicendo insomma questo poi magari eh vi fate vi siete già fatti una foto quindi vado avanti veloci quindi capiamo come è importante lo vedremo eh dopo con con i nostri ospiti come è importante lavorare anche in maniera strutturata nella produzione dei contenuti con il coinvolgimento dei creator creator che nel travel ci sono sempre esistiti io dieci anni fa organizzavo un evento che metteva in connessione i blogger di viaggio e il mondo dell'industria del turismo organizzavo con invasioni digitali tour per produrre contenuti e raccontare i musei essenzialmente oggi sono cambiati si sono evoluti i formati eh ci sono molti più formati molte più piattaforme di condivisione e quindi anche la tipologia del racconto cambia e si evolve a seconda anche degli degli skills del singolo creator ci sarà il creator eh che magari è appassionato esperto di fotografia il travel photographer che prediligerà il canale eh fotografico come Instagram oppure ci sarà il creator che è più bravo nel racconto video e preferirà YouTube o TikTok nella maggior parte dei casi ci sono modelli ibridi dove i creator utilizzano sempre più piattaforme almeno due o tre e eh spesso ritroviamo una diciamo clusterizzazione del creator che si specializza e porta avanti avanti una determinata tematica quindi perché lavorare con i creator vedremo qualche esempio eh più avanti eh vi lascio una lista e vado veloce altrimenti eh sforiamo con i tempi essenzialmente dico solo due cose il creator è qualcuno che può aiutarci a realizzare dei contenuti particolarmente coinvolgenti e attraenti che magari con eh la nostra eh con il nostro stile con la nostra comunicazione non saremo in grado di eh di realizzare quindi potrebbero darci una mano a rinfrescare sicuramente il nostro piano editoriale e in molti casi a raggiungere delle nicchie di pubblico specifiche che non saremo in grado di raggiungere con le nostre eh attività eh di advertising tradizionale quindi a seconda del progetto della tipologia di eh attività o di destinazione da raccontare da promuovere è chiaro che eh sono diverse le modalità di ingaggio e di collaborazione questo lo vedremo dopo eh nel dettaglio vi voglio raccontare solo queste due che esistono di velocemente che sono due eh che esistono di recenti a tema food eh la prima è una storica pizzeria con quasi cento anni di di età eh quando abbiamo iniziato l'attività con questa pizzeria è venuto fuori che nel duemilaquindici in un convegno all'identità golosa di Torino un giornalista aveva scoperto che la guida Michelin aveva eh per la prima volta per l'unica volta al mondo nel nel sessantatré dato una stella Michelin ad una pizzeria ed era questa pizzeria questa notizia del duemilaquindici ha avuto un po' di risalto sulla stampa di settore sulla stampa locale ma non è stata diciamo messa in evidenza a dovere non è stata insomma non ha avuto la diffusione che meritava essendo un contenuto a mio avviso molto molto notiziabile interessante quindi quando abbiamo iniziato l'attività la prima cosa che abbiamo fatto a giugno è prendere questa notizia eh realizzare tutta una serie di cose tra cui l'ingaggio e il coinvolgimento di un content creator a cui abbiamo chiesto di raccontare questa storia quindi prendi questa notizia raccontala con il tuo stile nel tuo pubblico in condivisione ovviamente con i canali dell'attività e questa questo video dal titolo la prima l'unica la prima e l'unica pizzeria al mondo con una stella Michelin ha ottenuto una eh risonanza incredibile con più di un milione e mezzo di visualizzazione complessive e ancora oggi dopo sei mesi la coda lunga delle interazioni ha contribuito a rilanciare completamente questa attività con quasi cento anni di storia questo è diciamo un dato che vi fa capire come una notizia anche vecchia già eh nota raccontata nel modo giusto e in una maniera più vicina a quello che vuole il pubblico può contribuire ad ottenere un risultato totalmente diverso seconda attività eh fatta quest'estate proprio con Giovanni di Campania da Vivere su un beach club un beach club che eh da anni offriva questa cena e spiaggia esclusiva intima romantica per due persone ma essenzialmente aveva dei risultati molto scarsi soprattutto di un pubblico locale con Giovanni che è stato particolarmente bravo a raccontare questo tipo di esperienza usando le immagini giuste il giusto voice over la musica e ovviamente condividendola con il suo stile sulla sua eh sui suoi canali dove è seguitissimo perché racconta ogni giorno cosa fare in Campania in particolare su TikTok questo video è diventato virale e ovviamente ci ha ci ha permesso di raggiungere dei numeri importantissimi tanto che in tre giorni la struttura è andata sold out per tutta l'estate su questo ci sono due aspetti interessanti il primo aspetto è che delle oltre duecento preotazioni il trenta per cento ha preotato anche un albergo quindi questo semplice contenuto è riuscire a generare anche un micro flusso eh turistico che eh prima invece insomma non ha non c'era mai stato questo tipo di risultato il secondo aspetto invece è che c'è stata un'enorme difficoltà nel gestire le richieste perché la struttura non era pronta e non era in grado di gestire un numero così elevato di richieste e questo ci apre a un altro tema che lo affronterà dopo molto delicato che lo affronterà dopo Manuela quindi ho dato a lei questo compito arduo di parlare ne abbiamo parlato anche ieri sera perché essenzialmente a volte ci si chiede anche se è giusto o meno eh fare delle mie attività taggarsi in un luogo o raccontarlo perché molto spesso quel luogo non è pronto ad accogliere quel numero di persone quindi io vado alle conclusioni per passare la parola a loro è importante secondo me nel turismo non ragionare su grandi numeri non non abbiamo bisogno di grandi influencer ma abbiamo bisogno di piccoli progetti strutturati che si rivolgono alle persone giuste nel momento giusto quindi anche noi che ci occupiamo di di marketing abbiamo la responsabilità di non pensare solo alla promozione alla mera promozione ma di pensare al marketing come un filtro e non solo come un magnete capace di attrarre più numeri possibili grazie ho cercato di scusate la velocità però ho cercato di andare veloce per non rubare spazio le cose da dire sono tante per non rubare spazio poi a ai nostri ospiti allora iniziamo da scaletta con partiamo con Ezio Totorizzo eh consulente marketing e anche lui content creator ed è autore del primo libro in Italia sul fenomeno stories ad Ezio chiedo di presentarsi e parlare liberamente un po' di raccontarci un po' di cose di un po' la sua attività e delle sue storie allora ringrazio ringrazio Fabrizio e per chi non mi non mi conosce io sono Ezio Totorizzo sono un digital strategist insegno in corso universitari e sono un marketing manager eh da anni eh ricordo l'inizio della mia attività digitale nel duemiladodici apro un blog di viaggi poi ho diciamo la mia attività si è evoluta ho studiato i trend del social media marketing ho creato progetti che hanno raggiunto i trending topic che milioni di persone e eh nel duemilaventuno ho pubblicato il primo libro in Italia del di web marketing che approfondisce il fenomeno delle stories eh dei reel e quindi dei new media e oggi voglio un po' ehm darvi una panoramica da un punto di vista diverso eh nel senso che io vi darò una panoramica eh con delle strategie di marketing per le aziende quindi come le aziende devono le aziende eh i professionisti come devono approcciarsi al mondo dei creator perché eh e sicuramente eh avrete tre punti di vista differenti e in questi punti di vista differenti vi renderete conto che bisogna essere anche preparati a sfruttare tutte le potenzialità del settore. Inizio con questa immagine guardando questa immagine cosa vi viene in mente? Vi viene in mente eh guardate delle persone che scattano foto quindi pensate forse sono degli influencer forse è un social trip eh in realtà eh queste persone eh vi svelo sono degli imprenditori in un mio corso di formazione con eh Garda Trentino ho eh diciamo portato la classe di imprenditori che si stavano formando sul tema del social media marketing eh a conoscere il territorio perché secondo me è fondamentale conoscere il territorio e vivere l'esperienza di ehm oltre eh diciamo eh del racconto digitale perché eh l'impresa il brand per poter collaborare con un creator deve non deve demandare al creator senza avere una strategia deve essere pienamente consapevole di quello eh che è il suo racconto di quello che deve chiedere e per questo ho eh portato questi highlights che sono un po' gli highlights eh del eh diciamo del mio panel e sono community perché la community vedremo è fondamentale è fondamentale perché grazie alla community oggi possiamo raggiungere dei risultati e come racconterà sicuramente Manuela oggi eh i creator parlano a delle community eh specifiche parlo di progetto imprenditoriale digitale perché è fondamentale ricordare che il nostro è un progetto imprenditoriale ma è un progetto imprenditoriale nel mondo digitale quindi dobbiamo cercare di trovare anche una modalità di far dialogare l'offline con il mondo digitale perché sono due linguaggi diversi ma la nostra realtà è unica una nuova comunicazione col cliente perché vedremo che ci sono così tanti strumenti che noi dobbiamo cercare di sedurre questo cliente di sedurre il viaggiatore ma avere gli giusti strumenti per comunicare con lui poi eh questa è un po' la mia parte da docente mi fa ricordare di eh sottolineare la figura del buyer personas ossia chi è il nostro cliente perché alle volte è proprio l'errore più eh grossolano che magari facciamo sia noi nella nostra comunicazione ma anche quando parliamo e scegliamo i creator perché quello che vedremo è come scegliere i creator giusti per la nostra attività parto con questa immagine non so quanti di voi vediamo siamo per l'alzata di mano quanti di voi eh riconoscono più o meno queste immagini e sanno dove ci troviamo vediamo ecco questa eh è una eh idea di marketing territoriale ho scelto le foto dall'account ufficiale più una mia foto eh dalla pagina delle orecchette di Nunzia che è ormai diventata una star questa è una via di bari vecchia eh ed è una via dove le persone ormai passano fotografano eh diciamo queste donne che sono lì e diciamo creano diciamo al momento pasta ma oltre a creare pasta creano engagement eh si raccontano si divertono e eh perché ho scelto questo perché questo posso assicurarvi che è un fenomeno nato dal basso nel senso che c'è stata l'opportunità a Bari è diventata una grande meta per esempio per i turisti eh da crociera quindi c'è stato un certo punto un grande flusso di gente eh le eh le persone del posto hanno iniziato a capire le potenzialità e cosa hanno fatto? Hanno hanno cercato subito di dialogare con gli strumenti digitali queste stesse persone sono le eh diciamo le eh le signore di Bari Vecchia che hanno un account Instagram che se se chiedi di fare una foto insieme loro o un video loro sono felicissime di farlo e per esempio sono state scelte da aziende come brand ambassador perché tu ti stai legando a una territorialità eh a delle figure eh diciamo molto eh sentite questa che vedete nell'immagine eh sulla vostra destra eh è una campagna di Dolce Gabbana perché comunque poi eh sono iniziate ad arrivare i brand le grandi aziende perché ho scelto questa eh diciamo queste immagini per parlare ovviamente qui parliamo di un marketing diverso però quello che vi voglio far capire è che bisogna stare in ascolto bisogna stare in ascolto perché bisogna essere sempre pronti ad ascoltare anche quelle che sono le richieste e eh ovviamente adesso per esempio che c'è tutto un nuovo fenomeno TikTok, Reel, Video eh bisogna capire anche cosa ci offre il territorio per poter poi usarlo per le nostre strategie di marketing per questo dobbiamo sapere che per creare il nostro progetto di successo perché comunque dobbiamo cercare di avere eh step by step cercare di arrivare un processo a un progetto di successo non sarà semplice e potrà essere un po' complesso però dobbiamo cercare di imparare a comunicare con la nostra audience perché la nostra storia come azienda è una storia unica e dobbiamo solo trovare il modo per raccontarla al meglio e ricordarci che non ci sono solo like non c'è solo non ci sono solamente follower ci sono tantissimi obiettivi di business che noi possiamo raggiungere anche con i nostri piccoli numeri e soprattutto quando noi andiamo ad interagire con i creator eh e con le figure digitali noi dobbiamo aver ben in mente qual è il nostro obiettivo perché sto eh diciamo scegliendo queste figure che diventeranno ambassador e può essere promozione può essere branding o una campagna eh che magari vuole implementare implementare il dialogo in DM con la mia audience e quindi posso fare customer service e quindi sfrutto un creator perché creo engagement sulle mie storie per esempio che hanno un alto tasso di risposta e quindi inizio a creare un dialogo ricerche perché come sappiamo tramite le storie possiamo per esempio attivare i sondaggi i sondaggi sono un parere diretto che noi abbiamo con la nostra utenza quindi se io devo fare un lancio di un prodotto devo capire che direzioni prendere nuove innovazioni diciamo eh nella nostra azienda posso utilizzare questi nuovi strumenti ovviamente c'è anche la parte vetrina e vendita che però bisogna contestualizzare tutti abbiamo una storia come vi dicevo ma il problema è come riusciamo a sfruttare gli strumenti digitali vi ho unito delle case history che potessero essere diciamo eh un inizio per poi eh ascoltare quello che diranno i creator e sicuramente oggi quello che devo fare è utilizzare alcuni non solo ma alcuni dei nuovi strumenti che ci permettono di arrivare a tantissime persone come può essere Instagram con i reel con le storie ma può essere anche un progetto di influencer marketing come può essere anche TikTok vedrete anche i risultati che si possono ottenere ma cosa dobbiamo fare io ho messo qui due eh diciamo due lavori con diciamo delle realtà di destinazione una è Garda Trentino una è una un progetto sono molto contento di raccontare che ho eh al quale ho partecipato quest'anno eh è eh pugliese e eh era la promozione del patrimonio sommerso eh con un progetto europeo tra Puglia Friuli Venezia Giulia ma anche tutto il bacino dell'Adriatico eh quando dovete cercare di dialogare col creator e dovete chiedere qualcosa create un progetto pensate insieme a qualcosa che possa portare dei risultati a voi ma poi cercate anche di sfruttare le potenzialità del creator per esempio quanti chiedono il takeover dei propri account cioè al creator non non demandate solo i contenuti che poi rimangono sulla piattaforma del creator quelli ci servono per raggiungere un pubblico che noi non abbiamo ma quanti poi chiedono al creator scusa mi produci tre quattro stories eh che io posto in nativo sulla mia piattaforma per presentare il progetto perché io voglio anche sfruttare eh diciamo perché se ho scelto quel creator io condivido la filosofia di quel creator però posso sfruttare un'immagine più disinibita davanti alla telecamera per parlare magari e raccontare la storia alcuni progetti si fanno solamente per esempio sulla mia piattaforma eh eh mia aziendale senza magari condividere il creator che fa solamente dei lanci quest'altro progetto che voglio presentarvi per esempio è un progetto my champagne con l'appellazione champagne è un progetto molto particolare che eh diciamo eh il l'appellazione ogni anno pandemia post pandemia eh crea dove per esempio chiama un creator per nazione quindi ok questo io ho fatto parte del tour europeo e eh c'è stato un misto eh di racconto eh e questo secondo me è la forza dei progetti quando dovete costruire un progetto digitale per la vostra impresa e eh l'empatia che si viene a creare con tante realtà in questo progetto per esempio loro hanno raccontato lo champagne ma hanno parlato di famiglie delle maison di champagne rì della loro storia del loro racconto dei dei ristoranti dell'hotel della destinazione quindi quando create un progetto pensate a trecentosessanta gradi cercate delle collaborazioni cercate di coinvolgere altre realtà questo potenzierà sicuramente eh diciamo eh sia la finalità del progetto ma anche le connessioni che poi rimangono e le persone poi guardano e rimangono anche molto colpite diciamo da questa tipologia di intervento eh un altro progetto eh comunque una realtà eh pugliese eh ho preso un esempio con eh due creator ehm abbiamo mi prendo e mi porto via Alessia Russo eh dei creator e vi faccio vedere come al creator bisogna cercare di cucire sulla persona anche un racconto e non bisogna solo guardare un video magari il primo che ha raggiunto un milione eh di views che sono numeri sicuramente importanti ma bisogna anche guardare per esempio la qualità fotografica quindi io nel progetto devo avere tanta gente che parla anche in modo diverso ad alcuni posso chiedere magari so che hanno più forze in alcune la creazione di alcuni contenuti creo quella tipologia di contenuti però io ho anche bisogno del materiale da postare sui miei canali per tutto il periodo della stagione post stagione quindi posso chiamare dei creator che hanno un'attenzione più particolare alla fotografia e poi per esempio chiedo ai creator di creare engagement chiedo di fare domande di fare sondaggi di attivare la community di cercare di fondere le due community quindi quello che eh voglio eh finisco qui che voglio dirvi è proprio questo cerchiamo di creare dei progetti che abbiano degli obiettivi perché se non c'è un obiettivo nel nostro progetto di influencer marketing di collaborazione col creator voi dovete massimizzare questa tipologia di lavoro e eh ora lascio la parola a agli altri creator e ehm se avete domande penso che le faremo dopo insieme sarà un po' di tempo grazie mille per l'attenzione e passo la parola grazie grazie Ezio passiamo da scaletta con Giovanni Molinari eh abbiamo visto con Ezio l'importanza anche della qualità dei contenuti eh Giovanni ci racconterà il suo lavoro eh che io penso che è una che esistere unica in Italia perché è un progetto verticale sulla destinazione campania ma è un progetto che oltre alla qualità dei contenuti unisce dei numeri importantissimi con credo che sia tra i progetti con più eh interazioni più engagement eh che racconta una regione italiana al momento in Italia quindi eh Giovanni raccontaci un po' eh come insomma lavorare anche con i food content che è un po' il tema del panel e un po' della tua attività del tuo lavoro Salve allora come detto io mi chiamo Giovanni Molinari e sono il fondatore di Campania da Vivere ho fondato e amministro Campania da Vivere dal duemilaquindici qui vi metto alcune delle collaborazioni svolte in diciamo negli ultimi anni come vedete ci sono principalmente hotel di lusso poi ci sono alcune aziende che si occupano di food tipo San Salvatore vini, liguori, pasta e così via. Di cosa mi occupo? Praticamente io quasi ogni giorno giro il lungo e largo per la regione per creare dei contenuti in alcuni casi soprattutto per quanto riguarda le destinazioni sono contenuti che faccio praticamente per me per Campania da Vivere quindi per mostrare le bellezze della regione in altri casi e qui entriamo più in un aspetto di business per quanto riguarda le collaborazioni per cui con hotel, ristoranti oppure delle attività turistiche. Creo dei contenuti per me e in alcuni casi li creo anche per loro. Quando dico per loro intendo che non vanno solo sui miei canali ma vanno anche sui loro canali riprendo un po' il discorso che faceva prima Ezio. Questo lo faccio soprattutto durante il periodo di collaborazione perché dal momento che dai miei canali arriva un flusso di traffico sui loro canali quando arrivano sui loro canali devono trovare dei canali che siano uno pronti dall'altro lato devono essere con dei contenuti quanto più possibile secondo me affini a quello che sto facendo io in quel momento. Cioè se io sto spingendo su un determinato prodotto o servizio devono trovare delle informazioni su quel prodotto o servizio il prima possibile senza mettersi a sfogliare tutta la pagina. Che cos'è Campania da Vivere? Oggi Campania da Vivere con oltre un milione di follower è il più grande progetto di marketing turistico sulla regione Campania. Su Facebook con ottocentotantamila follower e seicento e mi sembra settantamila ottantamila fan è il più grande progetto di marketing turistico regionale in Italia. Quindi se prendiamo le venti regioni d'Italia andiamo a prendere pagine ufficiali e non ufficiali Campania da Vivere è la più grande per numero di follower. Prima anche su TikTok con centosessantasettemila follower circa e quinta mi sembra in Italia su Instagram. Oggi vi parlo di un caso studio. Mi è stato chiesto di portare un caso studio in questo caso e tra i vari ho scelto questo che è uno di quelli che mi ha dato più soddisfazione e credo sia quello più replicabile visto che tratta di una realtà piccola. Partiamo dal contesto. Ci troviamo a Trentinara. Quanti di voi conoscono Trentinara? Male. Quanti di voi conoscono Cilento in volo? O meglio. Allora Trentinara è un comune come c'è scritto alle mie spalle molto piccolo 1500 abitanti che sta in Cilento. Non è una meta o meglio non era una meta prettamente turistica. Si trova 600 metri sul livello del mare questo ci tengo a precisarlo perché vuol dire che non è né di strada non è neanche facile da raggiungere però nel 2017 cambia la storia di Cilento in volo. Apre eh cambia la storia di Trentinara perché apre Cilento in volo che è la zip line più panoramica d'Italia mentre si vola è un chilometro e mezzo di volo. Vediamo a sinistra i tempi di Pestum e il mare e di fronte si arriva a vedere fino a Capri nelle giornate più terze. Io arrivo a Trentinara nel duemiladiciannove per collaborare appunto con Cilento in volo. Quelli che vi ho messo a sinistra alla mia sinistra sono i dati relativi alle pubblicazioni su Facebook negli anni duemilaventi duemilaventuno quindi post lockdown come vedete numero di persone raggiunte ci sono dei post da trenta milioni quarantanove milioni sono dei numeri per il contesto enormi e qui mentre ero a Trentinara ventisei giugno duemilaventi ero con un'amica eravamo lì per chiudere un accordo con il volo facciamo una passeggiata e troviamo questa piccola attività qui ci sarebbe un video non so come si fa a partire ok questo è il primo video che è stato realizzato lì da Paolino era una storia mi trovavo lì per una collaborazione era già passato un mesetto circa una collaborazione con questa ragazza che ha un'agenzia e realizzo questo contenuto da lì esplode la moda di Paolino almeno durante quell'estate che era l'estate del duemilaventi poi nel corso del tempo nasce prima una conoscenza poi un'amicizia e nel duemilaventuno iniziamo ufficialmente a collaborare questo è il quadro della pagina Instagram di Paolino al giugno duemilaventuno ora non ricordo la data esatta e era gestita in maniera abbastanza amatoriale come abbiamo impostato la strategia nella prima fase io ho cercato sempre di mantenere un link con il territorio questo perché quando cerco quando faccio collaborazioni io cerco sempre di mantenere coerenza sia con il luogo sia con l'attività ma ci deve essere un collegamento con il territorio perché il cappello di campanella vivere è la promozione territoriale quindi io ogni volta che andavo a Trentinara avendo una collaborazione con il volo andavo al volo mi facevo un giro per il borgo quindi le classiche attività del borgo e dopodiché andavo da Paolino magari non sempre in quest'ordine in ordine sparso però questo era quello che facevo quando arrivavo a Trentinara perché volevo che le persone vedessero questo piccolo itinerario e lo replicassero poi abbiamo deciso di puntare forte sul vino lì si beve anche altro però il vino è convivialità questa che vedete in questo momento l'ho messa perché mi sembra sia l'unica foto che ho fatto dove non ci sono persone io ho sempre ripreso situazioni in cui ci sono persone perché quello che doveva emergere era l'aspetto eh di vita di Paolino quando vai da Paolino trovi sempre delle persone sei seduto a terra è molto conviviale come luogo e quindi ci attacchiamo col terzo punto avendo avuto dei risultati abbastanza importanti da giugno fino a fine anno dell'anno scorso quest'anno ho deciso di far diventare la cosa un po' più seria quindi ci siamo seduti un giorno e abbiamo definito un piano editoriale e poi ci siamo dedicati alla creazione di contenuti anche se un piccolo bar in un piccolo comune del Cilento una cosa che eh in pochi sanno ma poi quando iniziano a vedere contenuti arrivano lì si rendono conto è che lì si bevono delle bottiglie abbastanza importanti parliamo di Don Perignon, Cru, Julio Ferrari e così via quindi abbiamo iniziato a realizzare spesso dei contenuti appunto con bottiglie importanti quella che tira di più non so per quale motivo vado avanti e poi torno indietro è Don Perignon probabilmente perché il brand più conosciuto qui vi lascio dei dati di insight di un video di un aperitivo che ha raggiunto quasi tre milioni di persone due milioni e otto nella creazione invece dei contenuti ci siamo sempre mantenuti su dei contenuti che fossero abbastanza instagrammabili tipo questi con vino e pian piano abbiamo introdotto delle altre tipo la pasta erano cose che prima non venivano fatte perché ci siamo resi conto che le persone se mangiano poi in qualche modo si fermano a dormire questo perché da Paolino ci sono anche c'era una camera adesso ce n'è un'altra quindi ci sono due camere che servono anche a loro per ospitare qualcuno che vuole fermarsi bene un po' di più veniamo ai dati che possono essere più interessanti quindi da giugno 2021 a oggi la pagina è cresciuta di otto mila e settecento follower circa però i numeri più interessanti sono quelli che riguardano fatturato fatturato da camera più che triplicato però qui ci tengo a fare una precisazione da agosto di quest'anno c'è un'altra camera quindi non è più una camera sono due all'inizio era solamente una e quando abbiamo definito il piano editoriale con il proprietario eravamo a telefono lui era a casa e ci siamo gli ho detto tu guarda se entro il quindici di settembre riusciamo a raggiungere un certo numero di fatturato mi devi regalare una bottiglia importante al trentuno di agosto non vi ho messo il video perché è un po' lungo abbiamo chiuso perché ha raggiunto e superato quel numero poi fatturato da wine bar più centodieci per cento significa più che raddoppiato e per chi conosce il contesto di Trentinara parliamo di cifre a cinque zeri raddoppiare già i numeri del 2021 era abbastanza difficile loro ci sono riusciti facilmente e parliamo di un fatturato su un mese che è circa il fatturato dell'anno delle altre attività nel corso del tempo poi sono stato più volte contattato da quest'altra azienda tre Daniele sempre un'azienda che sta a Trentinara io venivo da una collaborazione di quasi due anni con San Salvatore che è un brand più conosciuto di Pestum quando chiuso con loro ho iniziato con tre Daniele con tre Daniele avevamo una un duplice obiettivo dal lato spingere i vini perché ovviamente è un'azienda che fa vino dall'altro si doveva puntare sull'enoturismo perché loro fanno tante attività sull'enoturismo e trovandosi a Trentinara anche in questo caso il mio obiettivo era quello di creare un link tra le tre attività con cui collaboro perché poi avevo anche iniziato a collaborare con con il comune qui vi lascio si può far partire il video allora non ho il tempo per spiegarvi le motivazioni di questo video però comunque è un video che ha raggiunto più di tre milioni di persone e i contenuti fatti in questo modo attenzione qui non stiamo spingendo ovviamente sull'enoturismo non siamo a Trentinara però era un lavoro di posizionamento del vino in alcuni dei ristoranti più importanti del Cilento e dai contenuti che abbiamo fatto fatto in questo ristorante abbiamo raggiunto circa sei o sette milioni di persone questo è stato quello più virale diciamo così quindi alla fine nel corso di questo 2022 già dall'estate con campane da vivere al centro siamo riusciti a creare questo tour a Trentinara di persone che andavano a fare il volo poi andavano da Paolino da tre Daniele più o meno in quest'ordine e si è creato un flusso turistico in un posto che prima non era una destinazione oggi pian piano sta cercando di diventare una destinazione qui vi lascio i miei contatti e chiudo passo la parola a Manuela grazie grazie a Giovanni eh io passerei subito la parola a Manuela perché in realtà questo panel sta diventando una cassetta degli attrezzi con tanti contenuti molto interessati quindi ehm Manuela molti di voi la conoscono è una dei creator sul trave io penso eh migliore in Italia per la tipologia di contenuti e per anche eh mi piace molto insomma tutto anche il suo stile e quindi lascio la parola a lei che ci racconterà un po' del suo lavoro e dei suoi progetti. Grazie mille Fabrizio grazie a tutti io ehm vi racconto brevemente chi sono ma veramente molto brevemente perché abbiamo poco tempo ho iniziato nel duemiladodici a fine duemiladodici tra poco compierà dieci anni farò dieci anni di carriera diciamo aperto un blog di viaggi che è nato per gioco e poi è diventato un lavoro a tutti gli effetti. Ci tengo molto a precisare che ho iniziato dieci anni fa perché letteralmente mi sento quasi un dinosauro del digital perché ho visto veramente l'evoluzione in questi anni perché dal blog si è passati a Instagram oggi eh non nascondo che i social sono il mezzo principale con cui lavoro continuo ad avere il mio blog però i social ovviamente hanno una fetta preponderante eh del sono una fetta preponderante del business penso un po' per tutti i creator ormai e infatti oggi sono contenta perché Fabrizio mi ha chiesto di partecipare a questo panel non tanto per parlare della mia attività ma per parlare di sostenibilità e eh sostenibilità in ambito social perché in questi anni ho visto veramente come sono cambiate le cose e come io rido sorrido quando c'è gente ancora oggi che dice che i content creator l'influencer non eh portano risultati non eh non servono a nulla ma in realtà ora vedremo insieme quanto le cose sono cambiate a volte anche troppo perché bisogna fare attenzione infatti il titolo diciamo delle mie del mio speech è quando il viaggio è instagrammabile parto facendo outing non mi piace essere definita influencer infatti ringrazio Fabrizio perché non mi ha chiamato influencer per quanto poi giustamente ehm rientriamo tutti noi content creator che abbiamo comunque un pubblico più o meno ampio eh in questa categoria quindi veniamo etichettati come influencer io stessa sono anche docente di eh workshop di corsi sull'influencer marketing però sono sincera non mi piace essere definita così perché non mi piace l'idea di influenzare persone e di essere influenzata io stessa da altre persone al termine influenzare io preferisco ispirare io ho iniziato a fare questo lavoro io ho iniziato a ehm pubblicare su Instagram che oggi diciamo va per la maggiore e oggi io utilizzo quotidianamente tra stories post eh perché mi piaceva come mezzo per trarre ispirazione per essere era eh diciamo un mezzo per avere contaminazioni positive eh una cosa che ho sempre amato di di Instagram ricordo Instagram è nato nel duemiladieci ho iniziato a utilizzarlo più o meno da subito ero letteralmente galvanizzata da questo social passiamo quindi proprio parlando di Instagram un altro termine che è stato utilizzato poco fa instagrammabilità e termine instagrammabile cosa significa instagrammabile io penso che un po' tutti eh abbiamo utilizzato almeno nella vita questo termine o l'abbiamo sentito utilizzare instagrammabile oggetto animale c'è proprio su tre cani il significato oggetto animale panorama ritenuto adatto ad essere pubblicato in un posto una storia un reel su Instagram addirittura è un termine che troviamo oggi sul dizionario ed è un termine che ci fa capire quanto oggi eh si va in un posto e si tende a eh a vivere un'esperienza eh affinché questa possa avere appeal sui nostri social io vedo anche in alcuni viaggi ci sono persone che arrivano davanti a un posto magari credibile dopo aver fatto una fila chilometrica solo per fare una foto da andare via una foto per essere che poi andrà pubblicata sui social e nemmeno si godono poi quel panorama quel eh quel posto con i propri occhi eh quindi questo ci fa capire quanto i social influiscono sulla nostra vita ecco i social sono i veri influencer perché influiscono sulla nostra vita e ci portano anche a a cambiare il nostro modo di eh di comportarci e di vivere anche il viaggio stesso fino ad arrivare a una domanda che ho ricevuto qualche giorno fa e devo dire che mi capita spesso mi consigli un posto instagrammabile per mangiare a Bari no la mia risposta ovviamente non così secca però io cerco sempre di sensibilizzare di far capire al mio pubblico eh che eh l'instagrammabilità va bene va bene andare in un posto perché è bellissimo da da mostrare perché appeal sui social però prima di tutto la priorità dovrebbe essere soprattutto quando si tratta di cibo mangiare bene quindi eh la qualità della cucina o il fatto che quella cucina incontri i nostri gusti ad esempio sono a Bari magari vado in viaggio a Bari voglio cucina tradizionale barese ma non un posto instagrammabile che magari non ha nemmeno buona cucina quindi è anche una questione di priorità eh l'instagrammabilità va bene ma non a discapito di altro e infatti tutto questo questo fenomeno ha portato al caso Insta Repeat se andate su Instagram e cercate questo account Insta Repeat vedete un account che esiste veramente da tanti anni in ogni post eh condivide una serie di di storie questo è un unico post una serie di di scatti che sono stati realizzati nello stesso identico luogo scatti sono tutti uguali stereotipati e sicuramente io mi immagino come viene un po' ovunque una fila lunghissima di persone per arrivare a fare quello scatto e andare via quindi ci siamo portati a casa lo scatto ma uno scatto che hanno fatto tantissime altre persone quando poi magari basterebbe evitando la fila fare uno scatto da un'altra prospettiva portarsi a casa una foto bellissima e godersi il panorama godersi il viaggio una cosa che purtroppo ormai avviene molto poco. Io vi racconto questa questa aneddoto eh non so chi di voi conosce probabilmente molti la cava di Bauxite a Otranto è un luogo dai colori meravigliosi eh io ci sono stata la prima volta nel duemila tredici credo e non c'era nessuno ero io lì con il mio fidanzato abbiamo scattato delle foto meravigliose e ci siamo goduti la magia la magia del posto. Nel duemila venti abbiamo portato degli amici di Bergamo che volevano vedere questo posto arriviamo lì una fila chilometrica di gente per arrivare lì davanti scattare una foto e andare via. Eh la magia del posto si è completamente persa. Pensate sono passati appena otto anni circa e c'è stata questa evoluzione un'evoluzione di questo tipo e questo perché vi dico da dieci anni ho iniziato a fare questo lavoro ho visto quante le cose sono cambiate. Oggi è bene parlarne e vorrei che questo speech fosse un po' da monito perché va bene io diciamo che andrei un po' contro i miei interessi dicendo che non va bene condividere però ecco cerchiamo di eh andare in posti eh anche i posti che sentiamo un po' nostri o anche un posto che vorremmo vedere da una vita va bene andiamoci però cerchiamo di trovare poi il nostro taglio personale anche nel eh pubblicare una foto nel condividere una storia ecco non facciamo per forza qualcosa che vediamo che pubblicano altre persone che vediamo che pubblicano l'influencer eh e quindi di conseguenza siamo influenzati da queste persone perché tutto ciò porta a questo l'over turismo l'over turismo quello che vedete in questa mappa vedete ci sono dei segnali di pericolo tra virgolette letteralmente in quasi tutto il mondo questi segnali di pericolo indicano quei luoghi che sono letteralmente in pericolo per colpa di di questo turismo di massa che arriva oggi principalmente proprio per i media perché quando andiamo a pubblicare una foto io per prima mi sento un po' causa di questo sistema una foto iconica di un di un luogo eh basti pensare ad esempio la Giordania sono stata con una persona che qui davanti qualche anno fa per un bellissimo blog tour con lente del turismo della Giordania ehm e all'epoca la Giordania era veramente una meta un po' d'elite poco conosciuta oggi invece la Giordania chi di voi non ha mai visto una foto di Petra eh diciamo un po' tutti perché queste foto le le troviamo un po' ovunque sicuramente vanno a influire anche sulla scelta della destinazione di viaggio questa è una cosa stupenda e bellissima solo che il fenomeno che si viene a creare poi è questo qui ecco perché io vorrei che eh al termine poi di questo speech eh possiamo un po' tutti riflettere anche su sulle nostre scelte eh su come comportarci per evitare che poi possano accadere dei fenomeni un po' ehm sgradevoli perché non si tratta soltanto di cosa vediamo che che avviene online ma anche di conseguenze ambientali che ora vediamo insieme qualche mese fa Grazia mi ha chiesto di scrivere un pezzo sulla sostenibilità e secondo me la redazione si aspettava che io parlassi di green di ambiente in realtà non è andata proprio così perché per me la sostenibilità non è soltanto il green ma è anche questo eh e quindi è venuto fuori questo pezzo se tutti andiamo nello stesso posto per fare la stessa foto sostenibilità che poi ovviamente ha delle conseguenze sull'ambiente infatti lo vediamo insieme vi porto degli esempi di cui ho parlato poi nel pezzo e che sono emblematici questo esempio qui la grotta della poesia penso che tutti voi conoscete questo posto l'avete visto almeno una volta nella vita e vi assicuro che questi colori che vedete in foto non sono edulcorati sono letteralmente così è un posto letteralmente meraviglioso questo posto che è stato letteralmente presso d'assalto negli ultimi anni perché anche questo come la cava di bauxite di cui vi parlavo prima era poco frequentato non lo conosceva quasi nessuno poi anche a causa di social network anche a causa mia perché io sono pugliese ho scritto un un articolo sul mio blog nel duemila quattordici credo duemila tredici duemila quattordici in cui parlavo di questo posto e ricordo una blogger tedesca che vive in Salento e che andava sempre alla grotta della poesia mi disse ma perché parli di questo posto poi arriveranno tutti oh dai impossibile avevo aperto da poco il blog da pochi anni da un anno un anno e mezzo insomma quindi mi dicevo era impossibile che poi ci sarebbe stata tutta questa gente e invece è accaduto ovviamente non è solo colpa mia colpa barra merito mio ma anche per tutto il fenomeno mediatico il passaparola diciamo sui social che è avvenuto tante persone ne hanno parlato nei blog eh hanno pubblicato foto di questo luogo che è incantevole quindi chi non vorrebbe andarci se fa un viaggio in Puglia insomma è accaduto nel duemiladiciotto ehm che il comune ha deciso di chiudere la grotta della poesia perché i punti più fragili della grotta rischiavano di crollare quindi questo ci fa capire come questo fenomeno dell'over turismo questo fenomeno di instagrammabilità si va bene ma fino a un certo punto deve essere limitato perché poi le conseguenze sono conseguenze importanti sia a livello ambientale ma anche a livello proprio di rischio di pericolo per i turisti per i bagnanti altro caso emblematico è questo del lago di Braies eh questo è un caso molto più recente perché il lago di Braies anche qui avremmo visto tutti tantissime foto di questo lago meraviglioso che si trova in provincia di Bolzano eh complici social media ma anche eh le serie televisive perché è stato set cinematografico insomma recentemente sono caduti quattordici turisti nelle acque ghiacciate del lago quindi la provincia di Bolzano ha dovuto eh inserire il numero chiuso quindi controllare l'accesso al lago tutto questo quindi ci fa capire quanto eh il fenomeno dell'over turismo e tutto quello che noi andiamo a pubblicare sui social vada poi influire sulle scelte ma vada anche influire più o meno negativamente eh sulla eh sulla salvaguardia di di un luogo quindi ehm diciamo che secondo me traendo poi le somme di tutto ciò va benissimo il lavoro del content creator il lavoro dell'influencer se lo vogliamo chiamare influencer eh io stessa io amo il mio lavoro quindi voglio continuare a farlo e non direi mai eh no non possiamo non pubblichiamo più niente sui social perché è proprio bello questo scambio io per primo ho conosciuto tanti posti tante realtà proprio grazie ad altri creator eh ed è una cosa che amo però cerchiamo di farlo sempre con eh condizione di causa ecco io quello che che vi chiedo è che mi impegnerò a fare io mi impegno tuttora a fare io in primis è di cercare di viaggiare più lentamente rispettando l'ambiente non viaggiare per ehm per il l'obiettivo con l'obiettivo di pubblicare un contenuto che possa diventare virale ma prima di tutto per crescere noi stessi quindi per eh una nostra un nostro desiderio di scoperta e quindi solo così facendo questo potremo poi realmente parlare di sostenibilità chiudo così grazie Manuela a cui ho dato davvero il compito più difficile per noi è stato facilissimo dovuto poi parlare della roba un po' più più tosta allora abbiamo forse cinque minuti per delle domande c'è qualche domanda e allora facciamo così eh concludiamo con Ezio che ci dà diciamo qualche consiglio appunto per lavorare con i contenuti in maniera strategica due tre consigli da portarci a casa dopo questo panel e salutiamo insomma allora eh sì sicuramente il consiglio che dicevo è quello di scegliere bene i creator per esempio in un progetto e cercare dei creator che possano essere utili per le nostre finalità quindi magari scegliere dei creator che siano molto esperti nei video nei reel che oggi diciamolo sono i contenuti che ci permettono in nativo di raggiungere il maggior numero di persone quindi se abbiamo l'obiettivo di raggiungere un numero elevato di persone utilizziamo i reel inseriamo però anche dei creator che abbiano magari delle tematiche particolari scusate particolari delle nicchie quindi la scelta diciamo della regia del nostro progetto è fondamentale eh lavoriamo tanto anche sul fenomeno di umanizzazione dei nostri profili eh nel duemilaventidue eh non possiamo più solo seguire trend quindi abbiamo tutto il bellissimo intervento di Emanuela sulla sostenibilità e aggiungerei anche ehm cerchiamo di eh quando io parlo lato più brand più diciamo azienda cerchiamo di avere eh diciamo una nostra eh identità troviamola raccontiamola facciamo parlare l'azienda facciamo parlare le persone perché questo sicuramente accorcia tantissimo le distanze quindi se posso aggiungere una cosa allora mi è piaciuto molto quello che hai detto prima scusa se entro a gamba testa perché mi è piaciuto ehm visto che si sta si sta parlando di consigli ecco da applicare eh il discorso del takeover quindi cercare di creare contenuti anche per il brand e per l'azienda e l'azienda e il brand stesso devono chiedere comunque dei contenuti altra cosa carina come il takeover sono i post in collaborazione or il in collaborazione perché funzionano molto in questo modo il contenuto viene realizzato dal content creator o influencer ma al tempo stesso va eh viene pubblicato di default anche sul canale dell'azienda o del brand quindi sia un contenuto speculare che va su entrambi i profili e che va poi a raggiungere entrambe le community esatto posso aggiungere solo una cosa a proposito che c'è Rocco Rossito che è già in attesa di entrambe le cose che hanno detto prima Ezio e poi Manuela quando secondo me quando si sceglie un creator bisognerebbe o interfacciarsi con lui direttamente se si hanno le competenze oppure passare tramite un consulente e fare in modo che il creator il creator lavori da solo cioè se un imprenditore sceglie un creator non deve dirgli quello che deve fare perché il creator fa il suo lavoro l'imprenditore fa un altro lavoro è chiaro che serve una persona che magari fa da filtro da un indirizzo però non si può pretendere che un altro faccia quello che avremmo voluto fare noi ma male esatto ok grazie a Ezio Giovanni Emanuela e grazie a BTO e a tutti un ringraziamento anche a Fabrizio grazie grazie a Fabrizio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti